Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi sono qui per raccontarvi una piccola esperienza paranormale che mi è successo molti anni fa Più o meno all'età di 15-16 anni Allora, intanto mi raccomando ragazzi di condividere questo video E di farlo vedere a vostri amici e anche di commentarmi qua sotto cosa ne pensate voi di quello che sto per dirvi E una vostra esperienza paranormale che appunto vi è successa Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Comunque, un bel giorno stavo andando, cioè stavo uscendo di casa E un amico mi disse, senti Peppe, ovviamente il mio nome è Peppe Quindi, senti Peppe che fa, ce la facciamo una passeggiata, andiamo a prendere ad Antonio e Ivan Andiamo a prendere ad altri amici e ci facciamo una passeggiata, andiamo alla casa delle tre sorelle E io lì per lì ho detto, la casa delle tre sorelle? Che casa è? Allora, praticamente questa casa, io non mi ricordo precisamente dove si trova Ma da questa casa, ogni volta che ci passi con la macchina, devi prima di passare suonare tre volte È come tipo una sorta di saluto, ecco, alle tre sorelle Perché se passi da lì, queste tre sorelle ovviamente sono morte, non sono vive Se passi da lì senza suonare, ti si blocca la macchina e si ferma Allora, all'inizio, scherzando e ridendo Non ha suonato e la macchina proprio si è fermata Proprio nel punto esatto dove c'era la casa E io tipo sono rimasto Come per dire, what? What the fuck are you doing, man? What? Cioè, lì per lì ho detto, ma che cazzo? Ma perché si è fermata? E io ho detto, vabbè, sarai tu che l'hai fatta apposta Ti giuro, provo ad accendere la macchina Non si accendeva, raga Cioè, io giravo la chiave e la macchina non si accendeva E vabbè, ho detto, boh E io, lì per lì, ho detto, boh, ma entriamo in questa casa Il mio amico mi guarda e mi dice, ma tu sei pazzo Entri in quella casa e non esci più Vabbè, non esci più Non è che c'è il diavolo là dentro Allora, alla fine abbiamo deciso di entrare io e altri due miei amici E lui stava fuori Quindi, cosa è successo? Siamo entrati in questa casa Questa casa, il tetto della casa era proprio distrutto E ci siamo andati appunto di pomeriggio Vabbè, comunque c'era il sole Quindi, entriamo in questa casa, ragazzi E come Può sembrare strano Come Può sembrare una cosa assurda Appena siamo entrati era buio pesto E fate conto che il tetto non c'era Cioè, era rotto, tutto distrutto E io, lì per lì ho detto, what? Ma cazzo è possibile che il tetto è distrutto? Cioè, il tetto è distrutto Vabbè Entriamo e c'era una scala a chiocciola A terra era pieno, 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 pieno Di uccelli morti E io, tipo, lì per lì ho detto Oh, ma Che cazzo ci sto facendo qui? Cioè, è una cosa assurda, raga Allora, che faccio? Entro e salgo sopra questa scala a chiocciola Ho dato un tratto Dovevo scendere, no? Nel frattempo che io riscendo Per guardare un po' sopra Ma non si vede niente Perché era proprio buio pesto E non sono salito da solo Cazzo che salivo da solo, ragazzi, siete pazzi? Sono salito da questi due amici E poi siamo scesi Quando siamo scesi La scala non era più a chiocciola Ma era tipo Tutta Verso il basso Tutta dritta Come ve lo posso dire? Una roba del genere Raga Io Ho detto Quando siamo usciti da quella casa Raga, non sto scherzando Vabbè È tutta una minchiata Queste tre sorelle Saranno delle stronze di merda Raga Manco il tempo Che ho finito di dire una roba del genere Neanche il tempo Passa una macchina, raga Passa una macchina Gli si blocca la macchina lì Io, raga Sono rimasto Proprio Così Non avevo respiro Non riuscivo a respirare C'era qualcosa Che mi teneva da dietro E mi tirava le Come si chiamano? Le spalle Le braccia Come per non farmi muovere Raga Raga Tutta ad un tratto Quando io ero messo così Non riuscivo a parlare Perché avevo proprio il fiato Proprio Sapete quando Siete in apnea E non riuscite né a respirare Né a dire niente Solo muore la testa E robe varie Io ero messo così Guardavo la macchina Tutta ad un tratto Non riuscivo a respirare Raga Mi sono arrivati Due pugni Nello stomaco Da quel momento in poi Appena mi sono arrivato Raga Ma voi sapete che significa Due pugni Nello stomaco Che io in quel momento Ho detto Cioè sono rimasto proprio così Sono caduto a terra Accasciato Mi hanno messo in macchina Mi hanno portato a casa E mi sono ritrovato Io Nel letto Con un dolore Allo stomaco Assurdo Raga Assurdo Che io ero lì Tipo a dire Oh mio dio Cioè Ero proprio stranito Proprio Una roba assurda Raga E questo è quello che è successo L'ho voluto dire a voi Perché comunque ormai sapete Che per me siete come una seconda famiglia Quindi piano piano Cercherò di Di dirvi tutto quello che è successo Nella mia vita Nell'arco della mia vita E niente Ci sono molte altre cose Che sono successe Però se volete Che vi parli Di un'altra cosa Che Questa cosa raga È agghiacciante Io vi dico solamente una cosa raga Che se questo video Arriva A cento like Ok A cento like Vi porterò un altro video Dove vi racconto Una cosa Aghiacciante Vi spoilerò solo Una piccola cosa Faccia a faccia Con un fantasma Non ho le foto Non ho le prove Però vi posso dire Quello che è successo Raga E non proprio faccia a faccia Cioè Fantasma era girato Però Se lo volete sapere Cento like Vi faccio sapere Subito Quello che è successo Raga Appena avviato Cento like Registo il video E ve lo carico È una promessa Raga Non sono menzogne Perché non avrei Non avrei motivo Di dirvi una cavolata C'è anche testimone Mio Tre virgolette Cugino Che si chiama Ivan E Vabbè Vi racconterò Poi appena arriveremo A cento like Di questo video Un bacione Dal vostro Del caso 92 Noi ci vediamo Alla prossima Wuhuuu Io mi sono cagato addosso Sì Mi sono cagato Proprio addosso Hihihi Alla prossima